Musica 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 Allora, se facciamo le immagini, abitualmente mi sono messo a rivolgere su due immagini di mangi, e il magico di bianco, la cera di bianco, per protestare per la fece, sta succedendo in bianco, per chiedere la libertà di nostro capo, ma se mandi caro, è il referendum dei bianco. Quindi i bambini chiedono il referendum dei bianco e la libertà del loro capo, ma si mandi caro. Quindi i bambini italiani chiedono la libertà del diafra, la libertà del diafra. All hell, diafra!